Era un discorso che Freud fece riguardo appunto all'arte, che va al di sopra e al di là della interpretazione puramente formalistica per risalire addirittura a livello dell'inconscio. Questo è un punto fondamentale in Freud e che si potrebbe riallacciare appunto al discorso con Licini. Sennò che qui in questo quadro ci sentiamo quasi osservati da quest'occhio unico che sembra la ricerca di un discorso silenzioso con il fruitore del quadro. Ed è importante secondo me, come lei giustamente ha detto nella presentazione, anche perché c'è questo ritorno ad una coscienza leopardiana in un certo senso. C'è questa luna, ci sono praticamente i temi del poeta, la luna è questa linea sul fondo del quadro che potrebbe quasi sembrare l'ermocolle in un certo senso. Quindi una visione astrale, una visione immanente al mondo. C'è una domanda che io le vorrei rivolgere come studioso e come uomo di partito. Licini è stato un grosso pittore, ma non è stato abbastanza riconosciuto dal partito. Io ho avuto occasione di scrivere esattamente in poche parole quello che si deve dire alla tua domanda. Adesso qui non mi è, non so, eccolo qui, eccolo qui. Io riferisco una lettera che mi fu scritta dopo la morte di Licini da sua moglie, in cui sua moglie mi dice appunto che è addolorata del silenzio che i comunisti avevano avuto su questo pittore. E io rispondo dicendo che su questo silenzio non c'è giustificazione e che in particolare il mio silenzio fu senza giustificazione. Fu un silenzio politico? No. Fu un silenzio estetico. Non avevamo capito sufficientemente che potenza realistica, oso dire adesso, c'era nell'opera di Licini, il quale cercava la realtà attraverso delle forme e dei linguaggi che in quel momento, per esempio a me, sfuggivano nella loro intrezza. Allora, sull'altra questione, che poi si aggiunge, questa è la spiega, quella dell'oniricità di Licini, Marchiori, lo ripeto, prima ha detto, non fu un surrealista. Ci sono elementi di ricerca surreale in lui, cioè quasi un andarsene al di sopra della realtà, ma senza dimenticarla. Forse si potrebbe dire per analizzarla meglio, per vederla meglio. Non c'è mai niente di misterioso nel senso del romantico in Licini. Ecco, Licini proprio non è un romantico, insomma. Sì, c'è quell'inquietudine, c'è quell'inquietudine che fu propria casomai, e l'hai citata anche te, è stato citato già da tutti, da un grande poeta che fu suo conterraneo e di cui lui è un grande continuatore, insomma. In sostanza, vedi la malassunta, che cosa è? È la luna. Esatto, è la luna, forse è la luna del pastore errante nell'Asia, ma io direi di più, è la luna di Licini. È la luna di Licini, è la luna di Licini. È una luna esplorata e dipinta molto tempo prima, perché Licini è morto prima che gli uomini andassero sulla luna. Allora, io non sono sempre molto d'accordo con quelli che dicono che i pittori sono dei profeti, ma in Licini c'è questa specie di capacità di volare nell'universo. Una volta io ho anche avuto così il modo di dire che c'è nella fantasia di Licini una specie di cosmofilia, gli piace la dimensione cosmica, insomma. Eppure, malgrado questo, è un pittore che ritorna sempre però al particolare. E qui c'è la giustificazione del suo essersi rifugiato nel villaggio, che non fu però un rifugio alla ricerca così del particolare, fu un rifugio nel particolare per andare verso un universale. E qui sta la sua grande forza d'artista, insomma. Io vorrei concludere dicendo, se mi è consentito, e dicendolo non soltanto... Ah, c'è una domanda anche sua? Sì. A proposito dell'iniziale, l'irismo e anche il naturalismo e il chiarismo di Licini. Sì, sappiamo anche dei suoi antichi amori di Paolo Uccello, delle tavolette di Urbino e anche del Sassetta a Siena. In ogni modo, mi pare che ci sia un improvviso capovolgimento di Licini per quanto riguarda la pittura stratta e in questo mi pare che abbia guardato particolarmente a Cle, uno dei maggiori pittori europei del momento. Non riesco a capire questo capovolgimento quasi improvviso di Licini? Beh, io non lo so, però mi pare che se si deve partire da come lei ha impostato la domanda, che Licini amò, non so, un pittore come Paolo Uccello, mi pare di aver capito. Beh, ma lei crede che c'è un grande capovolgimento amare dall'amore per Paolo Uccello all'amore per Cle? Io non credo. Da un classico a un altro classico? Ma non solo da un classico a un altro classico, ma anche Paolo Uccello è un uomo che della prospettiva aveva fatto non una cosa puramente geometrica, ma un modo per misurare la profondità. La profondità proprio spirituale del mondo. E per quasi... Se tu pensi alla geometria di Piero della Francesca nella plagellazione... E quasi per rincorrere e consolidare la mobilità, la mobilità dello spirito e della fantasia. Questa fu la prospettiva nelle mani di questi grandi e quindi un qualche cosa che va alla ricerca di quello che è anche al di là della realtà. E quindi ecco che il legame non è poi così anomalo della preferenza da Licini portata prima a Paolo Uccello e poi a un pittore come Cle. Ma io però sarei un po' più cauto in questo, insomma. Cle è tutto sommato un pittore di cultura tedesca, insomma. E Licini è un pittore tipicamente italiano. Ecco, tipicamente italiano. Come in fondo Leopardi. È un poeta tipicamente italiano e non ha la fortuna che hanno avuto infiniti altri poeti. Sì, occorre lavorare per far conoscere meglio e più profondamente la pittura di Licini. Questo è il punto. Valorizzando quello che c'è di universale. Ma non soltanto perché assomiglia a questo o a quel maestro, ma perché riesce a collocarsi in maniera autonoma accanto ai principali maestri della pittura moderna contemporanea. Ecco la luna bella. Mi vedi lassù, mi vedi volare lassù, sulla luna. Eccomi come volo per tutto il mondo, tutto l'universo. L'infinito è mio.